ma bella ma bella ma bella si adesso fa anche tutti i gridolini inizia a fare gli urli gli urletti e poi con me no perché secondo me non conosce la voce ma se la sua sorella inizia a far gli versi ride cioè si vede proprio che ride e ghigna la ghigna proprio dentro e poi qualsiasi cosa tocca adesso la mangia, se si trova un pupazzetto se lo prova a mangiare non è che lo mangia però cerca di capire che cos'è capito? poi si è mangiata tutto il latte o quello che c'era nel bubitone si è addormentata così gioca, ride, poi l'ho tenuta in braccio almeno mezz'ora non ha mai pianto un pochissimo e poi pesa eh sarà sette otto chili adesso sette otto chili e crescano eh crescano bezzetto o un etto devono crescere adesso non mi ricordo più no forse il netto è troppo ma un etto mi sembra un po' esagerato solo tre chili al mese è nata cinque mesi fa e mica quindici chili cosa stai dicendo vicino? un etto al giorno diventa un bestione tra un paio d'anni non mi ricordo più niente un etto al giorno quando avevo io i piccoli bambini praticamente se prende un etto al giorno quando compie un anno 35 chili quella pesa quella pesa che c'era qui che era qui ma hai comprato due pesi per me due pesi però non neanche più una una era tutta bella 300 euro era come un piatto che a me non mi piaceva tanto ma c'è lì la papa 300 euro sì una pesa sì secondo me la memoria inizia a ingannarti 300 euro una pesa 300 sono tantini eh per una pesa forse già 30 sono tanti 300 mila lire 300 mila lire 300 euro una pesa la rivendevo al mercato nero delle... ah beh insomma via 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 e non sono capace di aprirla, neanche con quella a fare lì la rompo, quella roba lì è posta per aprire i vasi ma non ci riesco neanche con quella roba lì. Adesso la apriamo.